Sono un'analista GIS e mi occupo della creazione di database geografici. Sono una business development manager e mi occupo di individuare opportunità di business nell'ambito dell'Agenzia Spaziale Europea, dell'Agenzia Spaziale Italiana e nei programmi spaziali finanziati dalla Commissione Europea. Io sono tecnica home manager e mi occupo di gestire progetti che estraggono informazione a partire dai dati satellitari. Sono pre-sales technical support e curo la vendita di dati satellitari. Sono senior product specialist e mi occupo del customer support per i software dell'analisi geospaziale. Sono business development specialist e curo la distribuzione dei software e dei dati geospaziali per il settore dell'università e della ricerca. Sono content strategy, fotografa e mi occupo di creazione di contenuti per i social. Sono una technical specialist e mi occupo di sviluppo software per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati satellitari. Sono senior legal building manager e gestisco la parte amministrativa delle gare del settore spazio, la contattualistica e tutto quello che ha a che fare con gli affari legali. Sono community manager e gestisco lo spazio e i membri di Impact Hub Bario. Sono una technical specialist e sviluppo applicazioni e gist su web. Gestisco e organizzo progetti scolastici e PON di alternanza a scuola lavoro. Sono growhacker e mi occupo di far crescere progetti innovativi e creare nuovi mercati. Sono technical specialist e sviluppo applicazioni per l'analisi di dati geospaziali su cloud. Sono un visual communication designer, mi occupo di progettare le entità visive accompagnando i clienti, le aziende e le organizzazioni in un percorso di coprogettazione che restituisca valore per loro e per le comunità in cui sono inserite.